E' stato firmato il protocollo d'intesa che vede Corecom di Abruzzo e Piemonte diventare i primi sportelli italiani territoriali per la tutela dei dati personali e il cyberbullismo su delega ufficiale del garante della privacy. Tra le principali azioni previste c'è l'organizzazione di iniziative pubbliche che coinvolgono esperti, cittadini e istituzioni per analizzare il fenomeno del cyberbullismo e come contrastarlo. E quindi tutte le problematiche legate alla tutela dei dati personali potranno essere risolte attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni. Siamo un'eccellenza a livello nazionale perché la firma coinvolge soltanto l'Abruzzo e il Piemonte in via sperimentale, ma la cosa importante è che il Corecom diventa un riferimento per la comunicazione a 360 gradi e quindi tutte quelle controverse che possono nascere tra il cittadino, i grandi operatori social network, i grandi operatori anche le aziende possono essere segnalate al Corecom così da avere un contatto diretto con la privacy, con l'autority per la tutela dei dati personali e quindi risolverli in tempo reale, rimuovere dei contenuti lesivi e anche denunciare situazioni che possono essere sconvenienti per la privacy e per la tutela dei dati personali.